Musica Amici di Live Sport Academy Buon pomeriggio da Leo Talusi e benvenuti all'Orange Per il primo appuntamento delle Memorial Giuliano e Marcello E Vigor per conti contro Core Da una parte né dall'altra Con la Vigor che esce con Giuliani Che di testa trova Aruri Aruri è passato un'altra volta Aruri, gran giocatore questo ragazzo Vidoni Sterza sul destra Era una buona idea Bruni Prova ad attaccare la profondità Va sempre sul fondo Mette il cross Stop buono E anche gol di Vidoni La sblocca anche meritatamente la Vigor Per quello che aveva fatto vedere In fase di pressione in mezzo al campo Sblocca la squadra in a maglia nera Con Vidoni 1-0 al terzo minuto Il destro Insidiosissimo di Marcelli Che spaventa soltanto Cecchini Destro sulla barriera Non è finita Altra conclusione Il volo di Cecchini Che mi sa che ha toccato Anche secondo il direttore di gara Calcio d'angolo Ci crede il Core Che non ha più molto tempo a disposizione Prima del duplice fisco Che vuol dire intervallo Calcio d'angolo Sta salendo adesso la squadra in maglia blu La Vigor è costretta a soffrire Traversone E palla che finisce in buca Non so se ci sia stata una deviazione Di un attaccante O addirittura di un difensore Sa di fatto che il Core Trova l'equilibrio 1-1 al nono minuto Tiro cross Savinelli La tiene lì 20 secondi Savinelli va a rinvio Colpisce il fondo schiera di un suo compagno Poi Attilia Nello stretto La Vigor sta continuando a giocare Ultimi 10 secondi Pallone rinviato lungo Ci può soltanto arrivare Cecchini Il primo tempo è finito Sul punteggio di 1-1 Fra Vigor e Core Via si riparte Col secondo tempo di Vigor Core Rinvio con il destro Palla messa giù Con grande fermezza E anche bello stile Dall'attaccante in fratino verde Poi sinistro E che risposta Di Casini In calcio d'angolo Novellino In buca d'angolo Mamma mia Che punizione del 10 La Vigor torna in vantaggio A 4 minuti dalla fine Una punizione Precisa Col telecomando Meravigliosa Di Novellino Allora ancora 30 secondi Pellecchia Corre Pellecchia È passato Pellecchia Per dire basta la partita La mette in mezzo Su Mele E credo abbia toccato anche per ultimo Ma non c'è più tempo La Vigor conquista La prima vittoria del suo girone Del suo memorial Batte il core 2 a 1